ciao a tutti benvenuti bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video vedete ora solo un foglio bianco perché ho fatto questo sfondo molto neutro per farvi vedere tutte le mie pietre minerali cristalli che ho sia come ciondolo sia proprio come pietra allora mi sono appassionata a cristalli e pietre solo da un paio d'anni prima si mi piacevano ma non le ho mai prese e mi piacciono molto per i colori le proprietà anche se io non è che le utilizzo tantissime a parte un paio che poi vi dirò mi piace proprio come idea di avere queste pietre di caricarle con la potenza della luna di purificarle eccetera e adesso ve le vado a far vedere allora per farvela vedere bene ho messo un sacco di luce così diciamo che si vedranno bene spero allora la prima che vi faccio vedere questo ciondolo di fluorite eccolo qua scusate se non mette subito fuoco ci vuole un attimo allora la fluorite è uno dei miei minerali preferiti perché è veramente bellissimo ha dei colori fantastici in particolare questo ha delle sfumature dall'azzurrino verde e viola ed è secondo me veramente veramente molto molto bello e mi piace tanto inutile da dire mi piace veramente tanto questo lo indosso spesso e mi piace anche il fatto che siano in questa forma tipo di cristallo proprio eccolo qua poi passo a farvi vedere le ametiste allora l'ametista che ho la prima è questa qua è stata una delle prime che ho preso ora sembra quasi nera ma vi sicuro che è lilla perché si vede così scura ma ho provato il zero un po la luminosità perché raga ok così si vede che è un'ametista però è molto più chiara rispetto a come si vede però è veramente molto molto bella io quando vedo le ametiste anche mi piacciono un sacco mi piacciono tanto tanto e questa è la più vecchietta che ho perché praticamente ce l'ho da tantissimi anni infatti la catenina è tutta un po rovinata purtroppo e sempre diciamo ametista questa qua questo cuoricino qua questo invece l'avevo preso in una bancarella molti anni fa ed è molto bello anche questo però la fa vedere sempre più scura di quello che è è molto lucida questa è più lucida dell'altra ovviamente tutte le pietre che vedete sono lavorate nel senso non sono proprio grezze sono lavorate e quindi le vedrete molto lucide molto lisce e molto ben fatte insomma poi passo a una pietra che anche se non ha niente di speciale forse a me piace tantissimo e la utilizzo molto si tratta dell'onice nera mi affascina io non lo so perché ma mi affascina guardate che bella che è è una pietra nera completamente nera lucidissima e ho sia questo cristallo che questo cuoricino sono più affezionata al cristallo e queste mi piacciono perché sono pietre che se caricate in un certo modo dovrebbero dare protezione così come anche un'altra che poi vedrete io non so benissimo tutti i significati di ogni cristallo pietra minerale eccetera però di alcune sì perché appunto mi piacciono e quindi mi sono informata questa è stupenda non ha niente di particolare è una semplice pietra nera molto lucida ma non lo so mi attira parecchio e quindi mi piace veramente tanto onice nera ok passiamo alla agata allora queste sono agate agata blu azzurra guardate che bella l'agata si distingue sempre da queste righe praticamente c'è in tantissimi colori tra l'altro l'agata io non lo sapevo infatti la prima volta che l'ho presa l'ho presa azzurra e poi l'ho vista anche rosa fucsia e l'ho presa anche così ma ho visto che c'è anche sul rosso sul giallino sul rosa più scuro insomma dei colori veramente pazzeschi e sono questi due ciondolini qua sebbene sono molto belli non è una pietra che mi attira secondo me anche le pietre i minerali hanno un'affinità con le persone non lo so a volte ti senti più attratta da un minerale da una pietra eccetera come succede come vi ho detto con l'onice nera la metista e la fluorite altre non mi dicono nulla sinceramente e quindi le prendo solo perché sono belle da vedere tipo queste poi questa in teoria non lo so c'era scritto che era una agata aspettate molto bella guardate che colori che ha aspettate che mette a fuoco no ok guardate che colori che ha sembra quasi il mare non lo so mi sembra quasi il mare ed è wow stupenda però non so perché mi sa meno di agata però c'era scritto così e quindi voglio fidarmi se non mette a fuoco ok altra pietra che non è niente di particolare ma comunque mi attira molto perché anche questa diciamo aiuta a togliere la negatività e quindi a dare protezione e l'ossidiana fiocco di neve io ne ho in realtà due di lune questa è una l'altra ce l'ho diciamo come ciondo in un braccialetto e niente mi piace un sacco è molto bella questa l'avevo presa invece anche una come croce così e mia mamma fa ridere perché mi ha detto non mi piace perché mi sembra le croci che mettono sulle lapidi dei cimiteri e in effetti non ha tutti i torti infatti col senno di poi forse non avrei preso la croce però comunque l'ossidiana fiocco di neve è molto carina mi piace poi passiamo al turchese allora il turchese è questa pietra qua non è difficile da capire perché è proprio il classico colore turchese quindi ha proprio questo colore qua ed è caratterizzata da parecchie righe tipo vedete anche lei ha parecchie righe marroncine grigiastre e ho queste due forme qua ho la diciamo l'aliciondolo rotondo e il cristallo sono molto belli come come colore mi piacciono molto però anche questo non è un minerale che mi attira o vabbè ragazzi questa in realtà ecco è così probabilmente fa questo effetto arancione per il semplice motivo che ho troppa luce troppo flash comunque voi dovete immaginarvela così ecco la terrò così perché altrimenti ma dimmi te che roba fa pazzesca sembra arancione vabbè è così ed è la pietra di luna ragazzi questa è una cosa stupenda questa sembra veramente magica in più questa qui ha questa lavorazione quindi è molto particolare e mi piace tantissimo mi girano altamente le scatole che sembra vi giuro arancione cioè è una magia questa roba qua vabbè in realtà è come è così vedete è trasparente però fa tutti i colori tipo del azzurrino lilla però molto molto soft veramente una bellezza magari magari vi lascio una foto a sto punto qua da parte poi della pietra di luna perché così non mi piace che si veda così insomma accanto alla pietra di luna abbiamo la pietra del sole allora questa è anche molto bella aspettate che volevo mettervela bene eccola qua e oltre lucida lei è glitter cioè sembra tutta glitterata guardate che roba pazzesca aspettate che metti a fuoco grazie non so si chiama anche sandstone mi sembra quindi pietra sabbia però ho letto che è in realtà è proprio la pietra del sole e quindi è molto bella c'è anche meno glitter cioè meno appunto brillantinata solo sull'arancione molto carina anche questa allora qua abbiamo una avventurina verde allora l'avventurina verde anche non mi piace sinceramente non mi dice niente è abbastanza opaca come vedete come pietra e non lo so non mi dice niente di che quindi non mi attira però l'ho presa diciamo per collezione per averla poi abbiamo questa che è un opale questa è molto carina invece non è niente di che anche lei nel senso che è un è un colore particolare tipo un bianco perlato un po si tipo madre perla così vedete si con la mano sembra proprio plastica invece così si capisce già che è un po particolare e ha dei riflessi se vogliamo sul un polo grafici possiamo dire si direi un polo grafici e niente è bella è bella ma anche questa non è che mi attira tanto infatti è l'unica opale che ho e l'ho presa anche questa per diciamo collezione per averla poi questa ragazzi è un po un mistero e adesso vi spiego un attimo allora dove l'ho comprata su aliexpress diceva solo watermelon pink stone quindi sarebbe anguria rosa pietra in realtà ho guardato un po su internet è venuto fuori che dovrebbe essere una tormalina watermelon quindi una tormalina rosa è carino come colore molto soft è proprio un colore corallo tipo però più trasparente non è male però insomma è un po particolare nel senso che neanche loro sanno bene questa è molto bella come bella bello come ciondolo ma come pietra non so bene cos'è e sicuramente non è una di quelle pietre diciamo proprio 100% naturale vedete che qua sembra quasi che l'abbiano dipinta e poi ha questa cosa dorata però è molto bello come ciondolo potrebbe essere una o una fluorite vedendo un po sotto però non credo oppure un semplice quarzo verde è molto bella come colore e non c'è niente da dire ora posso farvi vedere quelle diciamo non ciondolo però ve le faccio vedere molto velocemente e nella scatola se no altrimenti viene troppo lungo questo video ok eccole qua allora le ho sistemate in questa scatolina messa così e ve le faccio vedere piano piano allora questa è una agata vedete metti a fuoco tesorino un secondo ok è un'agata sul viola rosa viola carina ha questo taglio così non è anche questa grezza le altre sono più grezze poi ve le farò ve le un'agata così poi ragazzi allora io sto impazzendo vi giuro perché mi sento anche una scema perché sapevo benissimo che cos'era questa pietra e ora non mi viene più il nome cioè continua a venirmi che è un'ossidiana ma non penso sia un'ossidiana non lo so comunque è bellissima questa come vedete è più grezza perché l'ho presa in un negozio quindi l'ho proprio scelta ed è praticamente sembra praticamente un pezzo di argento cioè è proprio argento sembra un pezzo di argento fantastica vi prego se vi viene in mente qualcosa mettetemelo nel cioè se vi viene in mente che pietra è scrivetemelo perché ci sono uscita pazza oggi anche facendolo una ricerca su internet non è venuto fuori nulla quindi bella roba poi ho di nuovo una watermelon tourmaline fatta così a mela carinissima un quarzo rosa questo è piccolino bello però non è troppo rosa quasi bianco poi questa una avventurina ce l'ho anche una più piccolina quindi due avventurine questa anche molto vecchiotta ce l'ho da un sacco di tempo poi abbiamo la pirite questa sono sicura che lei guardate quanto brilla metti a fuoco eccola questa è veramente molto bella ed è anche questo sembra un pezzo di argento e perde un po di polverina poi l'onice nera poteva mancare qua nella collezione anche delle pietre assolutamente no bellissima l'ho presa così tipo a piramide mi ha subito attirata wow una metista eccola qua in realtà metista ne ho anche una bella grande ma adesso non ce l'ho qui fa pandan con le mie unghie questa metista poi l'occhio di tigre è bella come pietra è molto particolare guardate che cosa fa che belli i riflessi che ha fiorite come se piovesse ragazzi cioè ve l'ho detto che mi piace allora c'è questa che mi hanno un po' fregato perché sembra un pezzo di cemento ovviamente al tatto non è cemento però non ha un bel colore quindi è un taglio molto grizzo questa che invece è spettacolare con i classici colori come l'altro ciondolo e poi queste due sul verde questa sembra bellissima wow guardate sembra di avere un pezzo d'acqua in mano anche questa però è un po' più chiara guardate queste ragazzi questa è la migliore del mondo secondo me ed è una bornite è stupenda l'ho prese in una fiera perché quando l'ho vista me ne sono letteralmente innamorata ha dei colori pazzeschi cioè boh pazzeschi wow io sono innamorata di questo minerale e poi per finire ho una rodonite che sinceramente non è che mi piaccia proprio tanto anzi è un po' strana doveva essere più rosa ma è arrivata sì rosa ma non troppo e un piccolissimo lapislazzuli blu mettilo a fuoco va bene che piccolo ma mettilo a fuoco ecco e nulla ragazzi questi qua sono tutti i vari miei minerali e cristalli eccetera fatemi sapere in un commento se voi diciamo conoscete questi minerali se niente lei è ancora arancione ho provato ma niente se ne avete se li collezionate se vi piace sapere il significato le proprietà eccetera e nulla spero di non avervi annoiato con questo super video io vi invito a iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti a lasciarmi un bel like e un commento qua sotto che vi leggo tutti quanti e ovviamente fatemi anche sapere quale di questi minerali vi piace di più io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao